Gran Galà del premio Annino di Giacinto al Teatro Comunale di Teramo che festeggia il decennale. Il premio Annino di Giacinto per il contributo alla crescita di Teramo è nato per onorare la memoria di questo concittadino che ha profuso il proprio impegno intellettuale in ambito sociale e in ambito culturale. Ciascuna sezione del premio guarda infatti ad un versante dove Annino ha espresso la propria personalità. All'origine di tutto c'è il desiderio di riscoprire il sentimento d'appartenenza a una città che non dimentica i suoi figli. Chi era Annino di Giacinto? Annino di Giacinto oltre ad essere mio fratello, un personaggio straordinario di cui ho avuto veramente il privilegio di essere suo fratello. Personaggio eclettico, artistico, personaggio intelligentissimo. Ha avuto veramente tanti settori dove lui ha potuto esprimere le sue qualità. Era un ballerino? Soprattutto amante dell'arte e della danza. Fin dai primissimi tempi, dai primissimi passi ha evidenziato queste sue capacità artistiche riguardo alla danza fino a esplodere, fino a diventare solista del Teatro dell'Opera di Roma. I premiati di quest'anno, premio speciale ricordo di Paolina D'Antonio a Liliana Merlo, per la ricerca culturale Anna Carla Valeriano, per il giornalismo Simone Gambacorta, per lo spettacolo Anna Bischi Graziani, per la musica Enrico Melozzi, per l'arte Filippo Tattoni, per l'impresa della noce, per lo sport Gianpaolo Calvarese e Federico Di Francesco e per l'associazionismo L'Anfas di Teramo. Questo è un premio identitario, Marcello Schiraccio che chiama l'Oscar dei Teramani, ma in realtà è un voler esaltare chi dà la propria città senza rinnegarne le provenienze, l'origine, a successo, grazie alle proprie forze, ma anche a una formazione, a alcune caratteristiche che questa città ti consegna nella formazione del carattere e anche nella capacità di comportarsi nella vita.